buongiorno a tutti dopo un gonfiaggio di gomma già parla un'altra macchina ho messo 2 barre 5 a gomma voi direte è troppo sì ok però questo non ha servo stessi particolare le manovre io ho visto che non ho un braccio tanto funzionante però la macchina si ho comprato lo stesso e la passione va anche al di là delle difficoltà ora vediamo se riusciamo a farci anche un po di benzina prima di rimanere a piedi in teoria ci sta però la teoria deve essere ci deve essere più pratica che teoria 65 è bella calda calda 80 gradi possiamo andare tranquilli che bella calda il bello di queste macchine, come dico sempre, è che oltre alla vecchiatica delle emozioni il motore spinge, nonostante l'età, ma spinge come per esempio, io quando riesco, al meglio, compro molto tempo prima l'olio buono e fa tanto, sul motore del genere, veramente, fa tanto più attualmente sotto c'è, c'è dentro, è stato fatto il trattamento ceramico al motore, la bardal, fa tanto, veramente questa normalmente consumava un po' d'olio, ma fino adesso ci sta sta ancora, quindi se ho risolto per un po' il consumo di olio, che è normalissimo sul motore del genere, tanto meglio, veramente tanto meglio e ogni 600, ogni 700, 800 km un litro, insomma, è camminata la latta a mano e prima, prima i benzinai, tra l'ora boccavano l'olio, adesso non si fa più perché le macchine moderne non consumano l'olio, quindi prima era una cosa normale quando fermavano l'autogrill, facevi controllo all'olio, se ci mancavano, lo aggiungevano e poi l'olio all'epoca non lo stava in invece oggi, in un litro d'olio, comunque stai sui sta, cioè costa, è mediamente costa fa un po' di benzina ah, benzina gratis facciamo benzo non lo ha detto, ma è un po' di benzina è un po' di benzina non lo ha detto, ma è un po' di benzina non lo ha detto, ma è un po' di benzina non lo ha detto, ma è un po' di benzina qui è ravi po' di benzina non c'è una caratteristica non lo �izzola qui sigga ho anche un po' di benzina come un po' di benzina qui trodategory in vecino un po' di benzina una lice E allora ho un problema di pressione, l'accompanatura la devo fare, devo vedere un attimo se pinto come me la fa. Quello per il comunista nostro. Inoltre non è proprio tanto sole, c'è poi tanto sole, peccato. Musica maestro. Mamma mia che quarta, stupendo. Stupendo che quarta. Mamma mia. Il dosaggio dell'amore, c'è la nota 75. Stupendo. Una Giulia di oggi, tutto questo non ce l'ha. C'è la propria. C'è l'accompanatura. C'è l'accompanatura. C'è l'accompanatura. C'è l'accompanatura. Mamma mia. Mamma mia, che scarica. Immagino il GT Junior che cos'è Mamma mia Il GT 2000 veloce Mamma mia 2000 Eeeh 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 E' un concerto Eeeh 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 una bella spurgata sto motore mamma mia eccezionale eccezionale ed è 1600 è un 1600 la più bassa la più bassa che ci può essere di cilindrata e spinge così io non voglio una cosa spettacolare penso il gt v6 l'alfetta gt cioè il 6 cilindri il busso che cos'è mamma mia ci vuole un calmante spettacolo spettacolare 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 mamma mia che poesia che poesia che poesia mamma mia che poesia sta progressione è stupenda stupenda fa niente che ogni tanto ci vuole l'olio ma è qualcosa di allucinante mamma mia immagino a fare le corse con questo mamma mia ma è una 147 ho 75 minuti riposi e noi andiamo a fare quello che dobbiamo fare signore è stato un piacere a fare le corse con questo